Ciao a BetTest.it, loro due, siamo arrivati alla fine del percorso, il rosso e il nero, il nero e il rosso. Loro uno, eccolo qua, 15 giorni fa, loro due, eccolo qua. Va bene, squadra che vince non si cambia, torniamo un po' al rosso, grande bellezza, anche se questo rosso qua è più cosmetico, è più Revlon, è più rossetto, è più Vision. Vision di Avengers, va bene, eccolo qua, è un rosso anche un po' più lascivo, con questo loro anche cromato nel font. Bene, è un rosso Vision, è un rosso anche che richiama ovviamente quello della grande bellezza, squadra che vince non si cambia, continua il riciclaggio non di denaro sporco ma di se stesso, di Sorrentino, per un'operazione commerciale che arriva alla sua chiusura. Che dire, loro uno era molto sul loro uno, e cioè su questo Sergio Morra, chiaramente ispirato a Gian Pitarantini, di Riccardo Scamarcio che da Taranto cercava di arrivare in Costa Smeralda per far Baldoria e arrivare nell'entourage di lui, 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 questo lui che alla rapporto confidenziale veniva citato, 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 da gente citata, 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 citata e per arrivare a lui, a lui, fornire le ragazze a lui, entrare nell'entourage di lui, chiedere poi una cosetta a lui, un appaltino, una nomina, una cosa, lui, 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 lui. Poi lui arrivava e salvava abbastanza il film che era noiosissimo, in 20 minuti finali in cui era l'uomo più brillante, romantico e divertente del mondo. Loro due è molto più di lui, e cioè su Silvio Berlusconi. Lo vediamo di scenetta in scenetta andare avanti, fare tutto, fare tutto da tutti i punti di vista, nel senso che canta, corrompe, scherza, non se la prende, briga, poi punisce, poi capisce, poi ascolta. Per esempio, il film inizia, è un Sorrentino molto televisivo, molto cabarettistico, era una commedia, una commediola già, loro uno è una commedia, anche loro due, è molto comico Sorrentino in questi anni, meglio, per quanto mi riguarda. E quindi il film si apre con uno sketch alla crozza, perché è un Sorrentino molto, molto, molto schecciarolo questo qua, infatti non è un caso che abbia fatto delle cose con i Jagal, a cui Davide Donatello adesso ha fatto una cosa con Frank Matano. Sta molto capendo, sta molto entrando nelle gag, io lo adoro, perché capisce che è una maschera, lui stesso è una maschera, sta diventando una maschera, Crozza ha fatto l'imitazione. Quindi è un grande imprenditore di se stesso, è un grande regista di un personaggio che si chiama Paolo Sorrentino. E quindi adesso lui fa questo cabaret, fa cinema cabaret, quindi c'è Berlusconi davanti a se stesso, un se stesso più sobrio, un se stesso più tranquillo, Ennio Doris, che parla come lui, che è come lui, è uguale, lo sapete. E quindi parte, è fatto da Servillo, ovviamente, campo contro campo, e va bene così. Loro due si apre appunto con Silvio che parla con se stesso ed è così intelligente da accogliere anche un consiglio. E poi c'è un Silvio, sempre in questo spaccato 2006-2009, che fa tutto, canta, briga, corrompe, mette le sue donnine ovunque. Veronica, voi direte, ma Veronica l'aveva riconquistata con quel finale dove, eh, che manco Richard Curtis lo scriveva, va bene, manco Cameron Crowe che mandava John Cusack con lo stereo, no, avrebbe potuto concepire quel finale così romantic, con Cato che arriva sulla giostra per colpo di scena finale, certo che si ricordava Silvio. Silvio è super romantico, Silvio è super buono, Silvio è super, certo che si ricordava di Domenica Bestiale come canzone del cuore tra lui e Veronica. E allora invece poi all'improvviso, come sempre fa Sorrentino, via, fum, perché Sorrentino ormai sa benissimo che prende e lascia qualsiasi cosa come vuole lui. Quindi scenetta, 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 non c'entra niente con un po' di costruzione emotiva che aveva creato con la fine di Loro 1, e Loro 2 è tutta una sequela di scenette con Berlusconi e Mattatore di questo periodo 2006-2009 che voi direte, vabbè, ma chi se lo ricorda ovviamente, perché in Italia è difficile. È il delirio, è il delirio del maschio che vuole scopare, del maschio che è terrorizzato dalla morte, del maschio che vuole le ragazzine, del maschio che non tollera nessun tipo di donna, anche polemica vicino a sé, anche uomini. No, perché Sorrentino ovviamente non ha questo tipo di idea, non vuole assolutamente mettere Berlusconi alla Berlina, non lo vuole nemmeno mettere a Berlino, lo vuole mettere soprattutto a Villa Certosa, è quella la stanza dei giochi di Silvio, è anche la stanza dei bottoni, da sbottonare e da pigiare in chiave strategica. E quindi c'è Silvio che briga, che fa un sacco di cose, 340.000 cose, servillo Uber Alice, seduce, poi c'è una scena che scimmiotta World for Wall Street ancora, con seduzione al telefono, Silvio che cambia accento, Silvio che è proteiforme, proteiforme, il multiplo Silvio, il supereroe dei mille volti, supereroe perché come tutti i personaggi di Sorrentino non è minimamente scalfibile, non è minimamente tangibile, non è minimamente... non voglio addirittura dire... non voglio dire che può essere messo in discussione perché per Sorrentino è inconcepibile, i suoi personaggi sono degli schiacciasassi che schiacciano i sassi anche le persone attorno a loro attraverso cazziadoni, sguardo dall'alto verso il basso, potere economico, c'è Silvio che tira fuori il cronometro, fa tutte... il film non è un film perché è un insieme di tutte cose da rotocalco, sembra appunto una copia brutta di Dallas, è una soppopera, con al posto di J.R. un ragazzo simpaticissimo, molto colto, perché poi sa che la cultura non deve essere impositiva come gli orri di personaggi di sinistra che si devono dare un tono, compresa sua moglie, soprattutto sua moglie, quindi è il classico, la classica idea di Sorrentino che ha del mondo, incredibilmente maschilista, anche se è meno misogino, cioè lui, le donne, vabbè, però in questo film c'è una scena ovviamente con Alice Pagani dove lei rifiuta ma è molto più antipatica di Silvio, ovviamente, nel momento di rifiuto, quindi va bene, insomma lo conosciamo, Sorrentino è un regista politicamente abbastanza schierato nella visione del mondo e questi suoi personaggi tronfi, prepotenti, che lui adora e che lui non vuole mai vedere minimamente in difficoltà, ogni tanto li fa svenì perché vedono mamma e papà che sono stati tanto cattivi, perché erano hippie ovviamente, come Young Pope, ogni tanto anche in questo film succede qualche cosa, qualcuno gli dice qualcosa, ma ovviamente è un one man show, è un Silvio show, è un Berlusconi che dice non mi psicanalizzate perché si psicanalizza da solo ed è un Berlusconi che dice tutto il contrario di tutto, è un film che mette anche qualche leggerissima critica, ma ripeto, blandissima, e che vi devo dire, tutte queste cose io le sapevo, ci sono stati già fatti dei film su Berlusconi con delle ottiche, con delle idee, con dei rischi, rischi che poi avrebbero permesso anche al pubblico di dividersi, invece Sorrentino vuole assolutamente tutto e quindi hanno tutti ragione per citare ovviamente un suo romanzo. Che idea mi sono fatto? Dopo aver visto il secondo film purtroppo la conferma di quello che pensavo, piuttosto che fare un film insulso che sarebbe passato abbastanza inosservato a 150, 120, 180 minuti, Sorrentino ha avuto un'idea geniale dal punto di vista editoriale, fare due filmettini insulsi da 100 e 100 minuti per fare cassa, per fare più soldi, e da questo punto di vista il Festival di Cannes non c'entrava proprio niente, anzi, meglio non andare al Festival di Cannes, meglio che questa cosa passi con un'operazione per i puritani anglosassoni che vedono gli europei che scopano che sono lascivi e per un pubblico italiano che insomma non si ricorda niente, non ha letto i giornali, non sa nulla di quello che è successo, non sa nulla di quello che ha fatto Berlusconi, lo va a vedere e poi alla fine scopre che comunque questo ragazzo era veramente tanto in gamba e c'aveva pure un po' di distruggimenti, è anche malinconico con falonieri, poverino. Ok? Loro 2! Loro 1 e Loro 2 è un'operazione commerciale di un regista che io adoro perché c'ha una cazzimma, c'ha una voglia di vincere, se facesse anche dei bei film per me sarebbe il massimo. Ciao Betteist!